Europee almeno cinque i candidati molisani, scaduto il termine per la presentazione delle liste in corsa non solo Patriciello con la Lega ma anche Germano con Sinistra e Verdi e Becci con il PD. Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Campobassano Mariangela Di Biase. Vannacce accende la polemica anche in Molise, le frasi sui disabili pronunciate dal generale scatenano la reazione dell'associazione persone down che scrive al ministro Locatelli, profondamente feriti da quelle parole. Il 26 maggio riapre la cattedrale di Campobasso, poco fa l'annuncio dell'arcivescovo Colaianni e del suo predecessore Bregantini, dopo anni di attesa a fine mese il capoluogo riavrà la sua chiesa. Il Campobasso festeggia anche tra i banchi di scuola, i giocatori rosso-blu insieme ai dirigenti questa mattina ospiti degli alunni di Ferrazzano per loro grande entusiasmo cori e striscioni. Impresa Magnolia è in semifinale, basket, le molisane superano sesto San Giovanni e accedono al turno successivo dei play-off scudetto, calcio, selva piana sold out per il derby con il Termoli. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la politica, con la presentazione delle candidature al via la campagna elettorale per le europee. Sono almeno cinque i candidati molisani nelle liste, tra questi l'europarlamentare uscente Aldo Patriciello. L'appuntamento elettorale sarà il banco di prova per valutare lo stato di salute di partiti e coalizioni. Sentiamo Pasquale Di Bello. Con la presentazione delle liste è partita ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni europee fissate per il prossimo 8 e 9 giugno in concomitanza con quelle amministrative. Sono cinque, complessivamente, le circoscrizioni in cui è diviso il territorio nazionale, nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. Sono almeno cinque i candidati molisani in corsa per la circoscrizione sud, che oltre al Molise comprende anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. A schierarsi nelle rispettive formazioni saranno Riccardo Di Palma nel Movimento 5 Stelle. Di Palma è stato già candidato alla Camera con i pentastellati alle scorse elezioni politiche del 2022. Nel Partito Democratico la rappresentanza per il Molise è stata affidata ad Anna Maria Becci, segretaria cittadina del circolo PD di Guglionesi. Un nome decisamente di peso è quello messo in campo dalla Lega che schiera tra le sue fila Aldo Patriciello, europarlamentare uscente, passato da qualche mese da Forza Italia al carroccio e che in caso di elezione giungerebbe al suo quinto mandato. Volto noto, ma questa volta proveniente dalla società civile, quello proposto dall'Alleanza Verdi-Sinistra. Si tratta di Giovanni Germano, ideatore e animatore della benemerita iniziativa Cammina Molise e padre del noto attore Elio. Chiude la lista l'avvocato Mariangela Di Biase del Foro di Campobasso, vicepresidente nazionale dell'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati, che corre per quella che si annuncia essere la formazione più forte in campo, Fratelli d'Italia, capeggiata da Giorgia Meloni. Dei 76 europarlamentari assegnati all'Italia saranno 18 quelli che verranno eletti nella circoscrizione sud del sistema elettorale e quello proporzionale puro con sbarramento al 4% e con la possibilità di esprimere da una a tre preferenze. In quest'ultimo caso, qualora le preferenze siano due o tre, è necessaria la preferenza a candidati di sesso diverso. A proposito delle elezioni europee, anche in Molise polemiche, sulle parole del generale Vannacci, candidato con la Lega sui disabili, l'associazione persone down di Campobasso ha scritto una lettera inviata, tra gli altri, alla ministra Locatelli. Parole, quelle del generale che ci feriscono profondamente, dice la presidente Giovanna Grignoli. Il servizio con l'intervista di Enzo Luongo. La bufera sul generale Vannacci e le classi separate per disabili coinvolge anche il Molise. Si muove l'associazione persone down di Campobasso, una delle più attive e longeve sul territorio, che ha diffuso una lettera aperta sulla questione inviata, tra gli altri, anche alla ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Parole che ci feriscono profondamente, quelle del generale, dice la presidente dell'associazione, Giovanna Grignoli. Diciamo, quello che è accaduto, parlando di far tornare le scuole, virgolette, differenziali, ferisce non solo le persone disabili, ma ferisce anche tutte quelle persone che sono anni che si spendono a favore dell'inclusione, quella vera, e dove, se non la scuola, si può fare un'inclusione vera. Quindi tornare indietro significa tornare indietro di 50 anni. Detto ciò, diciamo, noi appunto stiamo lavorando, lavoriamo molto sulla conquista dell'autonomia, però anche lì poi c'è un punto da dire. L'autonomia va benissimo, l'autonomia sociale, personale, ma l'autonomia vera è qualcosa che si conclude con il lavoro, si conclude con l'abitazione, quindi quella significa inclusione. L'Associazione Italiana Persone Down di Campobasso porta avanti decine di iniziative. Questi sono giorni importanti perché sono i giorni delle dichiarazioni dei redditi e chiunque può destinare il 5 per 1000 al sostegno dell'associazione. Sicuramente questo è un momento molto importante, noi diciamo sempre dateci la vostra mano, la vostra firma a voi non costa nulla. Per noi invece è una grande occasione di mettere su dei fondi che utilizzeremo sempre e solo per le persone con sindrome di Down e a loro favore. Quest'anno il nostro messaggio è appunto quello di fare in modo che i fondi che arrivino noi li possiamo destinare ad occasioni di lavoro. Abbiamo varie idee che vorremmo mettere in campo, però oltre alle risorse delle persone, le risorse diciamo umane, c'è bisogno di risorse economiche. Riapre dopo oltre tre anni il centro per le persone diversamente abili Afasev di Isernia. La struttura da oggi ha dunque riaperto i battenti grazie allo sforzo di Regione Comune ma soprattutto di Papa Francesco che ha contribuito con una donazione. Sentiamo Davide Gambardella. Il contributo di Papa Francesco è stato uno degli atti decisivi per la riapertura di un centro per persone con disabilità atteso ormai da più di tre anni. Ma l'impegno per l'Afasev di Isernia è stato davvero corale. Grazie alla partecipazione al Bando Comunale per il Comodato d'Uso e all'impegno garantito dalla Regione Molise, la struttura diurna per le persone diversamente abili tornerà ad essere aperta dopo lo stop avuto con l'inizio della pandemia da Covid. Una bella giornata per le famiglie dei diversamente abili Sernini. Quando abbiamo condiviso quest'idea con altre associazioni hanno cercato tutti di dissuaderci perché aprire questa struttura così grande solo per quattro ragazzi ovviamente come potete immaginare è un suicidio economico, è una pratica assolutamente anti-economica. Però l'avremmo aperta anche per una. È stato il secondo progetto finanziato direttamente dal Papa qui in Diocesi. Il primo è stato un progetto del 2021 grazie al quale abbiamo accolto un ergastolano evitandogli di morire in carcere e adesso è con noi in Caritas, interamente finanziato dall'elemosineria papale. Questo è il secondo e il Cardinale Graieschi dopo aver ascoltato il Papa si è detto ben felice di contribuire anche a questa progettualità. Un impegno economico per Caritas e cura di Sernia ma anche da parte degli studenti del liceo artistico Cuoco Manuppella che hanno abbellito le pareti del centro con alcuni murales. Adesso toccherà alle istituzioni continuare a sostenere l'Afasef attraverso iniziative economiche mirate. È una bella giornata soprattutto per le famiglie, per i ragazzi. Tornano qui di nuovo questa struttura del Comune ma che è stata negli anni gestita sempre da Afasef, da chi l'ha fondata tanti anni fa. Quindi un ringraziamento anche a loro, agli attuali gestori dell'attuale associazione al Papa quindi con la Chiesa che ha dato il suo contributo. Il Comune lo ha dato, lo continuerà a dare anche sotto forma dell'ambito. Oggi c'è l'impegno anche da parte della Regione di poter rendere sempre più sostenibile questa iniziativa. Una bella vittoria per tutti noi. Vedere una riapertura di una struttura che è stata utilissima ai cittadini di questo territorio, alle loro famiglie e soprattutto ai ragazzi che sono meno fortunati è motivo d'orgoglio mio della Regione, ma credo di qualsiasi cittadino molisano. Da parte nostra non mancherà il contributo che sarà necessario. Abbiamo già preso in passato impegni come amministrazione regionale. C'è un impegno condiviso anche con l'amministrazione comunale di Sernia di far sì che in questo territorio possano essere aperte nuove strutture a favore dei soggetti disabili. Un impegno che manterremo e che manterremo aperto nel tempo. L'arcivescovo Biagio Colaianni e il suo predecessore Giancarlo Bregantini insieme ai sacerdoti della Diocesi di Campobasso annunciano la riapertura della cattedrale del capoluogo per domenica 26 maggio. La chiesa è chiusa dal 2018 per lavori di ristrutturazione. Ringraziamo, scrivono in una nota Bregantini e Colaianni, tutti coloro che a diverso titolo hanno lavorato e collaborato fattivamente perché potesse giungere questo giorno la presidenza della giunta regionale, la sovrintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio del Molise, l'ufficio tecnico di Ocesano, i progettisti, i ruppi tecnici, le restauratrici, le imprese e i benefattori che hanno contribuito con le loro offerte. Il programma prevede alle 18 di domenica 26 maggio il rito di apertura con Colaianni e Bregantini insieme e poi alle 18.30 il solenne pontificale. Programmazione e controllo di gestione si è discusso di questo nel corso di un incontro che si è tenuto all'ASREM per il direttore generale dell'azienda sanitaria Giovanni Di Santo. Si tratta di due aspetti strategici per il buon governo della sanità. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Programmazione e controllo di gestione sono stati questi temi di un seminario che si è tenuto oggi all'ASREM, aspetti centrali nella gestione e nel governo complessivo del sistema presente all'incontro Giovanni Di Santo, direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Sono due aspetti fondamentali per il governo clinico dell'azienda e per avere la contezza dei conti. Significa che noi attraverso un buon controllo di gestione riusciremo a trasmettere dei flussi che daranno valore e valenza a ciò che produciamo e a ciò che facciamo. Solo attraverso un'analisi del dato, attraverso un'analisi dei flussi sappiamo anche non solo quanto spendiamo, quindi non solo una valutazione economica ma anche e soprattutto una valutazione della programmazione. Un cambio di passo importante che fa parte di tutto un itinerario che l'ASREM ha messo in campo per dare una svolta al sistema sanitario regionale. Sì, questo è un altro tassello importante, io direi anche determinante perché attraverso un valido controllo di gestione noi riusciremo a sapere tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi produciamo. È ovvio che questo è solo un altro tassello in una riorganizzazione, in una rivisitazione delle attività che si vanno a svolgere nella nostra azienda. L'ultimo decreto della struttura commissariale ha ampliato la platea dei soggetti privati autorizzati a smaltire le liste di attesa accumulate nel settore pubblico della sanità, un'operazione che coinvolge nella fase esecutiva proprio l'azienda sanitaria. Abbiamo dato importanza sin dal primo momento del nostro insediamento alla necessità di una corretta valutazione e verifica delle liste di attesa. È stato un lavoro duro, un lavoro alto, un lavoro alacre e che ci ha consentito se non altro di dare anche una valutazione, una verifica e una possibilità di visita attraverso quelli che sono i codici di priorità. Quindi abbiamo iniziato a dare valenza ai codici di priorità e quindi alla necessità di dover effettuare una visita urgente piuttosto che breve, piuttosto che differita, piuttosto che programmata nei tempi relativi alle singole necessità. Negli ospedali molisani arrivano 5 nuovi pneumologi. L'esito del concorso per titoli ed esami indetto dall'azienda sanitaria regionale finalizzato all'assunzione di altrettanti medici della specifica disciplina su 45 candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale sono risultati presenti in 16 tutti specializzanti. L'ASREM ha quindi proceduto alla stipula dei contratti a tempo determinato che verranno trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione. Convocata per domani pomeriggio a Isernia la seduta straordinaria dell'assise di Palazzo San Francesco per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale carica fino a questo momento ricoperta da Nicolino Paolino. Un cambio previsto dal regolamento dopo il rimpasto di giunta che continua a far discutere. Ancora Davide Gambardella. Un nuovo presidente del Consiglio Comunale ed un nuovo suo vice dopo 30 mesi dalla designazione avvenuta con l'inizio dell'era Castrataru. La seduta straordinaria dell'assise di Palazzo San Francesco a Isernia prevista per domani sarà interamente incentrata sull'elezione del nuovo presidente della sala consigliare carica finora ricoperta da Nicolino Paolino di Isernia Futura l'ISA che appoggiò il primo cittadino durante le elezioni del 2021. Nuove avvicendamenti in consiglio dopo il cambio dell'ormai ex assessore Domenico Tibagio che dopo essere stato silurato per far posta a Umberto Di Giacomo annuncia ricorso al TAR. Non ci sarebbero state valide motivazioni per rimuoverlo dall'incarico ed è per questo che vuole ingaggiare una battaglia su di carte bollate contro il sindaco. Nel corso della stessa riunione in programma per domani pomeriggio si procederà anche all'elezione del nuovo vice presidente del Consiglio, ruolo affidato in questa prima fase della consigliatura a Giovan Carmine Mancini di Alleanza per il Futuro, nuove elezioni previste dall'articolo 22 dello statuto dell'ente comunale e nuovi nomi che spuntano per il cambio di Paolino. Il papabile sembra essere Sergio Sardelli del Partito Democratico, nome che sembra trovare d'accordo tutta la maggioranza. Ancora un incidente stradale provocato dalla fauna selvatica in provincia di Isernia, un capriolo stato investito e ucciso da un'automobilista sulla statale 652, vedete la foto all'altezza dello svincolo di Rio Nero Sannitico, traffico rallentato sull'arteria per lo schianto che si è verificato nella prima mattinata nella vettura. Oltre al conducente c'erano anche due bambini fortunatamente tutti gli occupanti sono rimasti lesi mentre invece l'auto ha riportato danni al paraurti anteriore. Una delegazione della società del Campobasso Calcio con il vicepresidente Cirincione e il portiere Esposito è stata nella scuola di Ferrazzano accolta dal travolgente calore di tanti bambini e ragazzi di materne primarie e secondarie da insegnanti e dirigente scolastico, cori, balli e canti per i neopromossi in Lega Pro. Sentiamo. Emozionati e colpiti da un entusiasmo travolgente dai più piccoli delle materne ai più grandi delle medie, sono stati letteralmente avvolti in un abbraccio rosso-blu i due giocatori del Campobasso, il primo portiere rivelazione del campionato Manuel Esposito e il secondo Giacomo Di Donato che insieme al vicepresidente Nicola Cirincione e altri membri della società rosso-blu hanno visitato la scuola di Ferrazzano. Cori, sciarpe, magliette rosso-blu, un clima da stadio per i neocampioni di Serie D che hanno riportato il lupo nel professionismo in Serie C. Dagli insegnanti agli alunni sono partiti canti, balli, cori. I due portieri si sono divertiti anche a parare i tiri di bambini e professori. La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo madre Teresa di Calcutta di Campodipietra di cui fa parte il plesso di Ferrazzano Michela Granatiero insieme allo staff dei docenti ha consegnato alla delegazione del Campobasso un lavoro fatto dai bambini un quadro con il lupo e i colori rosso e blu. Entusiasmo alle stelle dunque che ha colpito Cirincione e i ragazzi. Siamo legati in qualche modo a voi hanno detto perché a Campodipietra dove è la dirigenza ci alleniamo ma siamo sempre felici di incontrare i bambini. Il loro entusiasmo ci dà forza per vincere e questa accoglienza è stata davvero speciale. Il video lo porterò in America al presidente Rizzetta dove c'è la possibilità di farlo vedere in tv ha continuato Cirincione. Possiamo farlo vedere a più di 10 milioni di persone perché lui è molto innamorato del progetto. Vi ringrazio anche il nome di Matt Rizzetta che voleva essere qui per lui purtroppo è dovuto scappare in America. Poi la promessa il Campobasso tornerà a competere con le squadre più blasonate. Il sogno non finisce e le promesse fatte ai bambini si sa hanno ancora più significato e valore. Il restauro dell'ex mattatoio di via Palatucci a Campobasso procede veloce presto la città potrà avere qui un polo culturale che prevede una biblioteca un auditorium e una sala conferenze e la progetto dell'amministrazione gravina per la riqualificazione dello storico immobile che risale al 1910 e dell'intera area ha visto un finanziamento di poco più di 3 milioni di euro. Sentiamo Marta Martino. I lavori di ristrutturazione dell'ex mattatoio di Campobasso procedono speditamente da quello che è possibile vedere dall'esterno del cantiere. È quasi del tutto completato il restauro dei muri esterni dell'antico edificio. Il comune di Campobasso ha avviato la procedura negoziata circa un anno fa a giugno 2023 pensando non solo alla ristrutturazione dell'immobile che risale al 1910 ma anche alla sua rifunzionalizzazione immaginando quindi una destinazione ovviamente oggi diversa e un inserimento più moderno nella città. Il progetto infatti dell'amministrazione gravina di recupero dell'immobile ha previsto quindi a Palatucci un polo culturale, biblioteca, auditorium e sala conferenze. Una riqualificazione totale anche della zona andrà recuperata all'area antistante l'edificio, rifatta la pavimentazione, le sedute e l'arredo urbano e sarà realizzata una nuova illuminazione. L'intervento come si ricorderà è stato finanziato con fondi ministeriali del PNRR con fondi del bilancio comunale 2023 per un totale di poco più di 3 milioni di euro. Un angolo della città che attendeva da tempo una sistemazione visto che lo storico pubblico macello, blocco di pietra e mattoni, con un corpo principale di forma rettangolare e uno adiacente di forma quadrangolare, versava in condizioni critiche e dopo un parziale crollo del tetto rischiava di collassare del tutto. Oggi pomeriggio alle 16.30 all'Università del Molise nell'edificio polifunzionale di Via De Santis a Campobasso ci sarà un incontro testimonianza con Khaled El Kaisi, il cittadino italo-palestinese ricercatore all'Università Sapienza di Roma, arrestato dalle autorità israeliane al Valico tra Cisgiordania occupata e Giordania il 31 agosto scorso senza che gli fosse contestato alcun reato. La scarcerazione è avvenuta a un mese di distanza dall'arresto a condizione che per sette giorni restasse a disposizione delle autorità e lasciasse il passaporto in consegna. Il rientro definitivo in Italia risale all'11 dicembre. L'incontro è organizzato con la collaborazione dell'osservatorio contro la repressione. El Kaisi sarà intervistato da Italo Di Sabato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel decreto legge coesione il piano di azione del programma nazionale Cultura 2021-2027 che individua diverse iniziative da ammettere al finanziamento nelle regioni del mezzogiorno interessate tra le quali il Molise. Sentiamo. Nell'ambito del decreto legge coesione il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano di azione del programma nazionale Cultura 2021-2027. Diverse le iniziative individuate da ammettere al finanziamento nelle regioni del mezzogiorno interessate tra le quali c'è il Molise. Nel piano, ha fatto sapere il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, saranno privilegiati i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori delle regioni coinvolte. Il finanziamento del piano di azione è di 488 milioni di euro. Tra i progetti finanziati c'è ad esempio quello identità per il restauro e la valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e appunto dell'identità dei territori. Uno è dedicato ai grandi musei del sud, un altro a periferie cultura che punta a sostenere gli interventi di rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica. Grazie ai fondi a disposizione è prevista anche la costituzione di nuovi corpi di ballo nelle fondazioni lirico-sinfoniche e nuovi complessi orchestrali giovanili under 35. Sono previsti poi anche interventi di riqualificazione energetica e prevenzione messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura ma pure per valorizzare eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività culturale. Presente poi un progetto per sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane istituzionali e non e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Più volte ha dichiarato il ministro San Giuliano abbiamo sostenuto che la cultura può costituire un grande fattore di sviluppo socio-economico per il mezzogiorno d'Italia che ha un patrimonio immenso risultante di lunga e prestigiosa storia. Vale poi la pena ricordare che l'Unione Europea ha riconosciuto che l'Italia è prima per capacità di spesa dei fondi PNRR in ambito cultura. Ha concluso. Si chiama Stupor Mundi, parole in libertà, la mostra internazionale del libro che è stata inaugurata al Castello Svevo di Termoli e che rimarrà aperta al pubblico fino al 4 maggio. Numerosi gli artisti che hanno dato il loro contributo al progetto insieme agli studenti del liceo artistico Iacovitti, il tutto sotto la guida della professoressa dell'Istituto Schweizer, Carla Di Pardo, coordinatrice dell'esposizione. Dalila Catenaro. Un grande successo per l'inaugurazione della mostra internazionale del libro Stupor Mundi, che è approdata a Termoli e al Castello Svevo, dove è stato tagliato il nastro inaugurale. Dopo un primo momento presso la Casa Museo Stefanus, dove sono state esposte 30 opere di vari artisti, c'è stato un successivo step nella magnifica cornice del Castello di Termoli. 167 i libri d'artista provenienti da archivi storici in esposizione. L'evento è stato curato dalla professoressa Carla Di Pardo, vicepresidente della FIDAPA a sezione di Termoli, in collaborazione con Renato Marini. Presenti anche 10 elaborati grafici pittorici realizzati dal liceo artistico Iacovitti. Sono veramente soddisfatta, gente ce n'era tantissima, tantissimi sono stati i complimenti, gli apprezzamenti perché è stato, è tuttora un evento di spessore e io l'ho promosso insieme alla FIDAPA, la mia associazione e come artista ma anche come vicepresidente, quindi ho curato il tema nazionale che parla della cultura del rispetto, il rispetto per i talenti, l'arte e il territorio, il nostro patrimonio e quindi per il patrimonio abbiamo queste bellissime sedi e il borgo, per l'arte abbiamo tutto quello che potrete vedere tra un po' nell'esposizione sia qui che è la mostra itinerante, sia quella che abbiamo appena concluso a Casa Stefanus e per quanto riguarda i talenti ne abbiamo veramente avuti tanti tra poetesse e la bravissima musicista del violino Doriana Vizzarri. Sono il fondatore del Centro Cultura del Campo da oltre quasi 20 anni e quindi praticamente ho aderito a questa iniziativa della Dipardo. È stata una cosa, una mostra molto molto importante e niente, qui come possiamo vedere ci sono anche lavori del liceo artistico di Termoli e poi in qualità ecco di responsabile del centro e anche in qualità di artista io ho invitato un nutrito gruppo di artisti che collaborano da tanti anni, quindi ho avuto l'onore ecco di questi artisti che sono stati presenti a questa manifestazione. Bisogna ringraziare tutti gli organizzatori perché nella loro sensibilità dimostrano poi anche attaccamento verso Termoli perché queste mostre fatte qui al Castello Svevo, quindi in qualche maniera non può che farci piacere, condividere con loro le loro opere e le bellezze delle loro opere, ma bisogna anche ringraziare Carla Dipardo che diciamo in qualche maniera ha coinvolto i ragazzi del liceo artistico di Termoli, anche loro si sono espressi con delle opere bellissime e quindi ecco questa è cultura ma nello stesso momento è aggregazione e quindi partecipazione. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al prossimo 4 maggio dalle ore 17 alle 21. L'arrivo del mese di maggio coincide con numerose manifestazioni che in diversi centri della regione ricordano i riti legati all'arrivo della bella stagione del raccorto della primavera, tra queste ci sono certamente le pagliare, figure che rievocano il mese di maggio e l'appello alla prosperità dei campi. Con Stefano Ricci siamo andati a vedere quella di Lucito. Fiori di mandorlo, ciliegio, papaveri, fiori di campo e l'immancabile ciuffo di fiori di ginestra in cima al pagliaio umano pronto a sfilare tra canti e allegrie per le strade del paese. A Lucito da 27 anni si è deciso di riprendere la tradizione della pagliara con un connubio di giovani e più esperti che hanno riscoperto la personificazione del mese di maggio e l'invocazione alla prosperità come un segno identitario di tradizione. Abbiamo ripreso questa manifestazione e continuiamo, adesso siamo alla 27esima edizione, continuiamo negli anni a portare avanti. Grazie ai giovani non è facile in un paese piccolo, però riusciamo in qualche modo a coinvolgerli e a portare avanti una tradizione bellissima. Noi siamo rimasti veramente stupiti nel andare a riscoprire questa tradizione di quel legame fortissimo che c'era tra l'ambiente rurale, i contadini e soprattutto la natura e quindi tanto da volerla personificare e quindi da volerla rappresentare. Tutto inizia all'alba quando nella zona della defensa, il crinale che arriva al Biferno, si cominciano a raccogliere i fiori. La mattina del primo maggio ci reghiamo nel territorio a valle, l'agro più caldo di Lucito proprio della defensa e da lì che prende il nome il nostro canto e questa tradizione maggio della defensa, perché là si regavano i cantori maggiaioli per raccogliere tutto il materiale arboreo atto a costruire e rivestire la pagliare. L'edizione di quest'anno ha pure sancito il successo di un premio di poesia che ormai ha dato a Lucito un appellativo molto speciale. La bellezza di questo paese e del premio è che noi abbiamo trasformato il paese. Lucito ora si appella col nome Lucito paese dell'amicizia poetica. Per le strade del paese ci sono delle mattonelle in ceramica vicino ai muri, attaccati per sempre, delle poesie dei poeti che sono venuti a Lucito da tutta Italia. Bene, tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea come sempre ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo intorno alle 15 con il TG Flash. Buon pomeriggio.